Ciao a tutti, sono Giulia Maggi V24 e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con il secondo video di Halloween e ripropongo una cosa che in realtà ho già pubblicato l'anno scorso sempre nel periodo di Halloween, ovvero una reazione ai make-up di Halloween, quante volte ho detto Halloween e non lo so, però sì perché vedo che su Instagram girano un sacco di video di make-up tipo fantastici che sono impossibili da ricreare e allo stesso tempo molti fanno davvero schifo, nel senso sono belli perché sono fatti bene ma schifosi da vedere in questo senso. Quindi niente, direi di iniziare subito con il video, ho cercato l'hashtag su Instagram quindi adesso andrò a vedere insieme a voi scorrendo qualche video. Ok, allora, partiamo da questo primo video, poi vedrò tutti i video in questa prima sezione, diciamo. Oddio, il risultato già si vede! Comunque vediamo prima il video e poi alla fine faccio il commento, diciamo. Vabbè se mi viene qualcosa in mente da dire ovviamente la dico anche nel video, sennò magari è noioso, cioè mentre lo guardiamo. Dato che abbiamo già visto il risultato finale io non so che cosa ne esce fuori. Ma che è sta cosa? Ma che si è dovuta fare su sta bocca? Oh, mi fa senso. Scusate, sono abbastanza impressionabile. Buf, no, mi sembra pelle, mi fa schifo. Lei è bravissima, però fa senso, mi giuro, non ce la faccio. Che poi è brutto perché qui abbiamo già i risultati spoilerati appunto. Però voglio vedere anche come si creano queste cose strane. Ah vabbè questa cosa qui già la conoscevo per esempio, solo che mi fa senso, hanno tutti senso queste cose. Non lo so, cerco qualche video interessante, l'anno scorso ne ho trovati parecchi. Questo che è? Almeno questo non ci spoilerà il risultato finale, dai. No, abbasso che mi bloccano, cioè non metterò la musica perché ho paura che mi bloccano il video, quindi vabbè. Poi tra l'altro mi sa che sono tutte persone famose in vari paesi, questa mi sa che è spagnola, non lo so. Quindi saranno famose proprio appunto perché fanno questi trucchi, queste cose strane. Io non sono capace per niente. Vediamole, magari è qualcosa di più, meno scioccante diciamo, di quella di prima. Non è un make-up di Halloween, mi sa. Non so, non capisco. Ma non è un make-up di Halloween, ci sono rimasta male. O è tipo... Aspettate. Vediamo la traduzione che dice. Ah, una sirena. Ah, vabbè, dai, io sto cercando proprio... Sti cosi che fanno senso, insomma. Non lo so, non mi sembra di vedere niente. Oddio mio, questo non lo dovevo vedere. No, vabbè. Quest'altro? No, non mi fanno senso queste cose, non so perché lo sto vedendo. Quello è che qui tolgo la musica, scusate. Ma poi in realtà sono bravissimi, però mi fa senso, oddio. Sto video comunque tutto mi fa senso, però è vero. Oddio, ma sono ancora sul serio quella colla? Oddio. Cosa sta facendo? Ma è colla, non capisco. Boh, sarà una colla strana, penso. Che è sto coso che attacca? Cotone? Non capisco, scusatevi. Questo dovrebbe essere fondotinta per farlo aderire alla pelle. E poi è la stessa cosa che ha creato prima quella per la bocca. No, adesso ricreva il sangue. No, vabbè, mi fa schifo. Guarda quelle facce che fa, poi. Mio Dio. No, vabbè. Assurdo. E con un altro, tutto insanguinato. Non lo so, che altro circo? Perché non spuntaneate di interessante? Oh no. Cosa ho visto? È lo stesso di prima, mi sa. C'è lo stesso effetto, quindi non so perché lo sto rivedendo. Sì, è lo stesso modo, fa soltanto le strisce in modo diverso. Che poi sembra davvero sangue. Vabbè, questo fa più schifo perché tutto attacca... No, vabbè. Ditevi che io non sono l'unica che si impressiona per così poco, vi prego. Sarà che infatti a me è Halloween e non piacere chissà quanto, eh? Però devo fare i video particolari per il canale perché mi sembra ovvio, dai, è divertente. Però, cioè... No, 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 non ce la faccio, basta. Qualcosa di più... Leggero? Non c'è? No, ma sto... No, vabbè, questo c'è pure la lingua. Io intanto vomito. Eccolo un'altra. Oh, ma sto fissata in questa bocca insanguinata. Ma che c'ha di bello? Mi fa senso. Non lo so, non c'è nient'altro. Boh, mi sa che vado a cercare altre categorie perché qui non c'è più niente, quindi vediamo se trovo altro. Ok, ho cliccato su un altro hashtag e ci sono anche altre foto. Quindi non lo so, vediamo per esempio questa che fa. Vediamo se c'è qualche strana lingua. Ah, dai, no, non era niente di che, neanche fa vedere la creazione. Questo c'è... Mi spacchi in faccia. Aiuto. Questa è quella di Coco. Oddio, a me mi fa senso pure questo, non so perché. No, io non lo sto salvando. A me fa senso tutto, questa col bocca in testa. Ma che è? Non lo so. Che st'altro che fa? Io cerco sempre di attivare la musica, ma mi blocca nel video, quindi la disattivo, mi sa. Cosa si sta facendo bianco? Bianco cadavere, proprio, ho paura. Però forse non fa niente di tanto brutto, dai. No, no, mi sa che questo si trucca normalmente. Però a questo punto finiamo di vederlo. Che sta facendo? No, non è vero, mi sa che non si trucca normalmente. Non dovrebbe essere sangue questo. Ah, no, mi sa che sta facendo... Joker? O Hit? Ah, sì, sì, ok, ok. Sì, questo make-up l'ho visto da diverse... Pure sopra, c'è un sacco di gente, ecco. Di qua, di qua, sì, perché quest'anno va di moda. Però direi di fermarci qui. Ah, no, aspettate, ho visto una foto che mi sono dimenticata di farvi vedere. Questa. No, dicevo, quest'anno non ve l'ho più fatta vedere, ma... Questo sangue! Però certo che la gente è bravissima, davvero. Ancora questo coso. E ancora questa lattina. Vabbè, sì, comunque questo video è stato un po' tutto... Oh, mio Dio, che cosa è successo? Però spero che comunque vi sia piaciuto e che voi non vi siate scandalizzati come me. Se sì, vi chiedo comunque di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche. così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E detto questo, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!